Quello mo' c'è il telefono chissà dove, lupi già... Pronto? Pronto? Sì Buonasera, scusate l'orario, che è l'avvocato... Sì Eh, buonasera, mi scusi, io per l'orario mi hanno detto di chiamare che non disturbavo... Disturbo? Chi è? Io sono il signor Dostilio Giulio e chiamo da Farindola Sì, 0861 Sì, da Farindola, però provincia di... Perché ma deve sapere che ci sta praticamente un comprensorio di Farindola che è provincia di Teramo Ma un comprensorio di provincia di Pescara Io sto nel comprensorio di là A casa di mia sorella Che è successo? Perché il mio cognato si è purtroppo spento E mio cognato faceva il pecoraio E come abbiamo aperto, diciamo, il testamento E' venuto fuori che io ho ereditato la bellezza di 58 pecore Ma io volevo chiedere a lei, che è un legale E' possibile prendere questa cosa oppure una fregatura? Cioè, io come faccio praticamente ad avere queste pecore se io non ho il posto dentro casa? Mi chiama domani... come si chiama lei, scusi? Io Dostilio Giulio Giulio Dostilio E mio padre gli rimaneva comodo con l'aglie Fare Giulio Dostilio Sto scherzando No, 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 signor Nardini Stiamo scherzando qua Io purtroppo il problema ce l'ho Perché il mio... che si è morto, no? Mi ha lasciato queste pecore Ma io dove le metto? Questo è il problema, veramente Se non gli serve a lei due o tre pecore, eventualmente Se c'ha qualcuno che... Perché io due o tre le venderei Anche di più, sinceramente Perché dentro casa mia, guarda Mio figlio andrà a fare il militare, diciamo E Mogillo sta all'estero Quindi non ritorna per mo' Dentro la camera di mio figlio Se i sette ce ne entro Ma non di più, eh E guardi, mi chiama domani e... Ma lo chiama allo studio oppure al cellulare come adesso? Mi chiama sul cellulare Ah, sul cellulare Ma lei non sta in udienza domani mattina? Sabato Ah, domani è sabato Ah, scusi, non mi ricordavo Perché io lavoro pure sabato Perché se no fa la transumanza Ma queste pecore mi è toccato portarle a Foggia Capito? E domani devo andare a riprendere Perché dobbiamo riportarle su Capito? È una cosa veramente troppo lavorato Capito? Anche se è una rendita abbastanza importante Perché 58 pecore per... Quanto sviluppo ogni mese? Sarà una pecore che costruisce un mila euro Mille Saranno 58 mila euro Guarda, 40 mila euro glielo do io, eh Dopo lei si... Ma non si può mettere all'astra Se non, poi c'è una cartella dell'Equitalia Eventualmente Mi posso dare pecore Chi ti ha dato il mio numero? Il suo numero me l'ha dato un amico, no? Mio Che si chiama Fabio Fabio? Fabio di Teramo, eh Uno, capito, che sta con gli occhiali bianchi Che c'è una ragazza con i capelli Lunghi Si chiama Francesco, no? Capito chi è? Fabio Francesco si chiama Allora, si fa chiamare Fabio E quando va, capito, le feste Quelle che fa su... Francesco, quel ciasanaiti Invece Fabio arriva subito il nome Quando deve acchiappare, Fabio Quando è Francesco Quando invece è con la ragazza E vedi che... C'è una ragazza con i capelli Eh, non ho capito chi che mi ha dato il mio numero Eh, ma sta a venire questo dubbio, eh Chi posso essere, secondo lei? Vediamo un po' Uno che telefona tardi la notte, diciamo, a quest'ora Non ho capito Uno che telefona tardi a quest'ora Chi può essere? Eh, uno che si diverte Eh? Uno che si diverte Uno che si diverte Però io non è che tanto mi diverto Perché io ho paura a fare queste cose Perché che ne so Che trovo dall'altra parte Che uno L'avvocato, per esempio, domani mi fa Una citazione al tribunale Eh, che vuol dire? Io lo faccio perché Sono coperto, un certo momento Perché l'ambasciatore non porta Pene E allora, praticamente Io lo faccio su commissione Perché Francesco e tutti gli amici Mi hanno fatto telefonare Sono Vincenzo Livieri Scherzo telefonico Siamo su Roma da Matti Un pubblico qui A vostra regione di Tenamo Applauso, vai!